La notizia è quasi clamorosa, il Rimini torna finalmente a giocare dopo il rinvio della gara col Mezzolara, rischia il quasi out con il corticella ma alla fine scende in campo e affronta il fananino di coda ottenendo un poker che non ammette storie. Il vero protagonista del match è Butai, il suo gol è più bello ma da sottolineare anche l'ottima prestazione da parte di Sambu che noi affettosamente battezziamo Sambuca che mette lo zampino nel primo quarto due del match e che non riserva particolari emozioni. A pensare ad accenderlo ci pensa l'ultimo arrivato in casa biancorossa nella sessione estiva, chiama se Butai, la sua acrovazia ed applausi scrollando di dosso la tensione avvertita in campo anche dai propri compagni di squadra. Lo stesso Butai serve poco dopo il redivivo Urivi la cui conclusione viene respinta dall'estremo ospite Cinelli. Nel recupero del primo tempo i biancorossi raddoppiano in maniera rocambolesca, Sambu va al tiro, la palla carambola sul piede caldo di Butai che trova la sua personale doppietta. Nell'extra time, perché rimaniamo ancora nell'extra time, il pallone del Tris capita all'ex Ravenna Ronchi, sfera alle stelle. Nella ripresa Sambu apre per Butai, cui tiro si spegne sull'esterno della rete. L'attaccante si ripete su questo cross di viti con una girata che non inquadra lo specchio della porta. Ci prova anche Sambu, la cui conclusione è però in questo caso da dimenticare. Il corticella chiama al primo intervento del match, tra l'altro di piede l'attento scotti al ventesimo della ripresa. Ma la giornata di Sambu si vede quando risulta determinante con questa discesa con sfortunata deviazione nella prima porta ad opera di Tonelli. Siamo sul 3-0 per il Rimini. Ci prova a questo punto anche lo scatenato V-Time, ma senza trovare fortuna. Azione fotocopia sette minuti più tardi, quando questa volta la deviazione vincente è sottomisura ed è Giovane Pecci, già Bessaglio alla prima col Forlì. 4-0 per il Rimini e dedica particolare al magazziniere Messina, che aveva pronosticato il suo gol. L'unico acuto del corticera nel finale arriva con questa concursione di Warley, che si spegne sul fondo. 4-0 il finale per il Rimini, Rimini che torna al successo, tra l'altro prima delle feste natalizie.